Sono contento di stare qua, sono contento di ritrovare Mister, di godermi la fiducia della società. Voglio ringraziare sia la società di Salerno sia la società della Ternana da parte del presidente e direttore a Mister e altri. Ho fatto il primo allenamento oggi, ho conosciuto tutti i compagni, alcuni già li ho avuti, tutti più o meno a Livorno, con 3-4 ragazzi ci ho giocato, sono bello carico, ci siamo. Sì, scendo dalla Serie A dove dopo la vittoria del campionato dell'anno scorso è stato questi sei mesi un po' difficili sia per me che per tutto il resto della squadra, però comunque sono contento di quello che ho fatto là e sto cercando la nuova carica e per quello che sto qua. Ma l'ambizione della società, la squadra che è ben costruita, che secondo me non sta sfruttando tutte le qualità e che si merita molto di più e per quello, per un percorso diciamo più lungo e importante che sto qua oggi. Ho cresciuto molto anche a livello tecnico-tattico per 6 anni che sto in Italia, quindi i primi 2-3 anni sono stati un po' difficili per capire un po' il calcio italiano e tutto, ma credo di conoscere bene la Serie B. L'anno scorso la vittoria di campionato, il gruppo che ci avevo con delle sensazioni che ho vissuto sulla pelle, penso di poter dare una mano alla squadra. Si vede 1,95 m, diciamo forte nel gioco aereo e ogni tanto faccio qualche gol. Faccio un grosso saluto a tutti i tifosi della Ternana. Forza Fere!